Musica Campagne in secca e agricoltori preoccupati, precipitazioni fino a 75% in meno, per Di Sante e di Coldiretti la situazione è drammatica, servono invasi per l'acqua piovana e assicurazioni per gli eventi climatici straordinari. Il Movimento Ioapro attacca Ricci e il PD per la benemerenza al dottor Nudi e l'iniziativa di solidarietà Carriera annuncia una contro-manifestazione davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Pesa. Il consigliere regionale Luca Santarelli presenta una mozione contro l'aumento delle spese militari, prima la conferenza dei capigruppo, la boccia, lo sdegno di Giacomo Rossi che su Fano TV lancia un appello ai partiti politici. Variante di Gimarra, giudicata la gara per il progetto di fattibilità, sarà pronto entro i primi di luglio a un costo di 1.300.000 euro. Per l'assessore Fanesi è un'opera strategica che servirà a smaltire il traffico verso nord. Presentato a Fano è il premio Ruggeri dedicato a giovani attori, entro aprile le candidature degli under 30 che si dovranno cimentare in brevi monologhi pirandelliani. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. In primo piano l'emergenza idrica e le campagne in secca, nonostante le piogge previste per i prossimi giorni. Il presidente di Coldiretti di Pesero Urbino, Tommaso Di Sante, parla di allarme rosso e di una situazione che si prospetta drammatica per la stagione estiva. L'intervista è il servizio che è stato realizzato da Filippo Pucci. Un inverno secco, quello appena trascorso, dove nel territorio nazionale ha registrato un terzo in meno di pioggia e temperature alte rispetto agli anni passati. A preoccupare è dunque la mancanza di acqua e la siccità che sta mettendo a dura prova le campagne e le prossime coltivazioni. Ma qual è la situazione nel nostro territorio provinciale e regionale? Nei mesi di gennaio e febbraio sono state solamente sette le giornate di pioggia registrate. La situazione continua a essere drammatica perché di fatto da una media degli anni passati, una media storica di piovosità di 17 giorni, qui siamo in un periodo di pioggia veramente basso. Ma la cosa più drammatica è che la quantità di pioggia in questi giorni è stata veramente bassa. Difatti dalle stime fatte da Assam e Coldiretti degli ultimi dieci anni siamo su un 55% di pioggia in meno sulla zona appenninica, un 45% di pioggia in meno sulla zona collinare e in pianura siamo su un 53% di pioggia in meno. È un campanello d'allarme quello che ci apprestiamo ad incontrare soprattutto con l'arrivo dell'estate. Si può parlare di allarme rosso per il nostro territorio, per il territorio italiano, vediamo che il Po è quasi asciutto. Quindi la situazione va ragionata in maniera diversa, va fatto un qualcosa di preventivo per evitare queste situazioni che ormai sono costanti. Quali potrebbero essere gli scenari per quest'estate? Se va avanti così la situazione sarà drammatica per l'estate perché dalle piante erbacee come il grano, che già ne risente alle semine che stiamo facendo adesso con mais, girasole, ma fino alle piante orticole, ma anche alle piante erbore, è chiaro che già vediamo dei sintomi di stress idrico. Quindi ad agosto, se la situazione continuerà così, avremo dei fortissimi cali di produzione. Intanto nei prossimi giorni è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, con una nuova perturbazione, con forti piogge. Sicuramente potrebbe aiutare anche in vista delle semine privali verili la pioggia che è stata prevista, però è chiaro che manca comunque sia già un fondo di pioggia che è data dalle piogge dell'inverno. Quindi già siamo decisamente in scarsità idrica e in siccità abbondante. Tra le soluzioni, sottolinea Coldiretti, c'è quello di creare una rete di piccoli invasi d'acqua naturali. Bisogna lavorare su formule assicurative, bisogna far sì che il reddito delle imprese si possa mantenere, perché altrimenti le imprese che vivono sotto il cielo stellato rischiano in maniera doppia rispetto alle altre imprese di altri settori. E bisogna lavorare in maniera preventiva per veramente cercare con i fondi del PNRR di creare degli invasi per rendere questi terreni della nostra provincia, nella nostra regione, ma di tutta Italia, irrigui. Quindi con canaline, con vasi invasi, pulire gli invasi che abbiamo, come la diga di Mercatale, che di fatto ha bisogno di lavorazione per aumentare la capacità di cooptare acqua, e utilizzare questa acqua anche per il bene prezioso che è l'energia alternativa, perché grazie agli invasi si possono creare, grazie ai finanziamenti del PNRR, con le fonti rinnovabili dell'energia idroelettrica, delle soluzioni anche per il territorio dal punto di vista energetico. Se questo giovedì il PD pesarese confermerà il sostegno a Umberto Gnudi davanti al pronto soccorso del San Salvatore, troverà il movimento Ioapro Rinascimento, alla stessa ora e nello stesso luogo, a contomanifestare. Lo assicura il segretario nazionale del movimento Umberto Carriera, che ha ricordato le parole definite di odio e di discriminazione pubblicate su Facebook dal medico, contro chi, rispettando la legge, aveva scelto di non vaccinarsi. Dopo le dimissioni di Gnudi dall'azienda Marche Nord, ieri il sindaco Matteo Ricci ha reso nota la volontà di proporre in Consiglio Comunale la benemerenza della città per il dottore, una scelta che il movimento giudica inaccettabile. Ancor peggio, ha detto Carriera, il sostegno del PD che ha annunciato perfino una manifestazione di solidarietà. In Regione, invece, il consigliere Luca Santarelli ha presentato una mozione contro l'aumento delle spese militari, ma la conferenza dei capigruppo l'ha bocciata. L'unico ad esprimere sdegno per l'incremento dei fondi destinati agli armi, e non solo, è stato Giacomo Rossi di Civici Marche, che ha lanciato un appello ai partiti politici. Ci sentiamo. Rossi, oggi è stato l'unico a sostenere una mozione del suo collega contro l'aumento delle spese militari. Che cosa è successo durante la conferenza dei capigruppo? Che questa mozione non è stata ammessa in aula, una mozione che chiedeva semplicemente di schierarsi contro, all'escelerato aumento delle spese militari, che il nostro Senato andrà ad approvare giovedì. Una richiesta che è purtroppo sostenuta da quasi tutti i partiti del Parlamento. Quindi io mi sono schierato con la mozione del collega Santarelli, che ringrazio, che purtroppo non è entrato in aula. Ma di che cifre si parla? Si parla di cifre spropositate ed assurde. Quindi questo aumento prevede un aumento dall'1,4% al 2% del PIL. Dai quasi 26 miliardi annui si passerebbe ai 38 miliardi di spese per armamenti militari. Ciò vuol dire una spesa giornaliera che passa dai 68 milioni ai 104 milioni al giorno. Questi sono dati MILEX dell'Osservatorio sulle spese militari italiane. Le nostre famiglie sono alle prese con una crisi economica importante, le nostre aziende altrettanto, molti devono decidere se pagare le bollette o mangiare e il nostro Parlamento va a provare una spesa folle. Tra l'altro in un momento di tensione internazionale. Questa scelta può solo che aumentare la tensione internazionale. Quindi io sono della linea di persone autorevoli come Papa Francesco che parla di pazia. Quindi io mi schiero contro l'aumento delle spese militari. Qual è il suo appello? Invito tutti i partiti politici, tutti i militanti, i sostenitori dei partiti politici a far pressione verso i propri rappresentanti affinché questa scelta scellerata non possa andare avanti e sia bloccata in Senato. Per la difesa della costa, su proposta dell'assessore regionale all'ambiente Stefano Guzzi, la Giunta ha deliberato lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro e tra i comuni beneficiari sono rientrati anche Pesaro e Mondolfo. Nel dettaglio a Pesaro è compresa sia la manutenzione delle scogliere di Sottomonte sia un intervento su quella protezione della spiaggia di Levante. Il comune di Mondolfo invece ha richiesto il finanziamento per il primo stralcio della manutenzione delle scogliere sommerse di Marotta. È previsto il ripristino di 6 tratti di scogliera e l'obiettivo è quello di ridurre il rischio dei danni alle abitazioni. I comuni interessati cofinanzieranno gli interventi per una quota pari ad almeno il 30% della somma richiesta e hanno già a disposizione il progetto definitivo o esecutivo. Torniamo a parlare della variante di Gimarra perché un'associazione temporanea di imprese con sede in Umbria si è giudicata la gara per il progetto di fattibilità. Il lavoro che dovrà essere consegnato entro i primi giorni di luglio ammonta a 1.300.000 euro. Un passo importante per un'opera strategica. Il vice sindaco Cristian Fanesi commenta così l'assegnazione dell'incarico per il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della nuova strada di collegamento verso Pesaro. La cosiddetta variante di Gimarra che negli anni ha visto diversi sit-in dei residenti contrari all'infrastruttura va avanti. La gara è stata aggiudicata da un consorzio di imprese Umbria le quali dovranno chiedere tutti i permessi necessari alla realizzazione dell'infrastruttura. L'interquartieri, come ha ricordato l'assessore, in base al piano regolatore verrà prolungato dalla rotatoria esistente tra Via della Fornace e Via Aldomoro. Attraverserà il quartiere della Trave e il torrente Arzilla fino ad arrivare davanti alla chiesa del Carmine per poi proseguire verso la statale 16 poco prima dell'hotel Riviera. Questo è il percorso di Massimo ovviamente. lo studio che ha vinto, che è un consorzio di imprese la cui capofile è Abacus di Perugia ma contiene anche altre aziende per quanto riguarda l'archeologia e per quanto riguarda gli studi ambientali, Archeotec e Ambiente Spa. Sono importanti ditte del settore quindi siamo molto confidenti che oltre ad avere un progetto di buona qualità avremo anche la possibilità di avere in tempi molto rapidi questo progetto da poter sottoporre alle autorizzazioni ambientali della sovrintendenza e quant'altro sia necessario per fare questa importante opera strategica. Opera ha proseguito Fanisi che garantirà uno snellimento del traffico che ora si riversa su Via Roma, Via Le Bozzi e Via Le Primo Maggio. In particolare ha spiegato sulla statale verso Gimarra i tempi di scorrimento, soprattutto nelle ore di punta, sono lunghi anche in considerazione del fatto che nonostante le rotatorie esistenti tanti sono gli attraversamenti a raso e diversi semafori ancora attivi che condizionano i tempi di percorrenza di questo tratto. Facendo questo percorso, che noi intendiamo fare nel miglior modo possibile integrandolo e mitigando l'impatto anche visivo oltre che ambientale tutto questo un domani potrebbe passare in questa strada o comunque il traffico si potrebbe dividere e quindi avremo un carico meno pesante nelle strade e nelle arterie principali che attualmente purtroppo usiamo per andare verso Pesaro. Quali opere come rotatorie ponti comprende questi interquartieri e quali potrebbero essere i tempi di realizzazione? Principalmente l'opera d'arte più importante è l'attraversamento del torrente Arzilla è un ponte abbastanza lungo e comprende 5 rotatorie con l'innesto su via della Trave con l'innesto su via del Carmine, con l'innesto su via di Villa Giulia e l'innesto finale sulla Statale 16 più questa dove siamo oggi. Ovviamente il costo dell'operazione dovrebbe essere attorno ai 20 milioni di euro il progetto esecutivo poi valuterà nel merito tutto quanto alla ditta che ha vinto abbiamo dato comunque un'importante cifra intorno oltre al milione d'euro per fare la progettazione, la direzione lavori tutto quello che attiene anche alla permessistica oltre che alla sicurezza e altra cosa i tempi i tempi ovviamente sono quelli scansionati dal finanziamento Cipe perché è un finanziamento ministeriale quindi del Comitato Interministeriali per la realizzazione delle opere pubbliche è sempre molto difficile darle delle stime sui tempi però l'impegno di questa amministrazione è quello di fare nel più tempo breve possibile un bel progetto per agevolare la viabilità cittadina. Nei giorni scorsi il ministro Giovannini ha incontrato i presidenti di regione Emilia Romagna, Marche, Molise, Abruzzo e Puglia per la ripartizione dei 5 miliardi stanziati dalla legge di bilancio per il potenziamento della Bologna Bari dalle informazioni che abbiamo dovrebbe esserci la variante di arretramento della ferrovia di Pesaro lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Ricci nei suoi profili social aspettiamo la comunicazione ufficiale aggiunto nel post e abbiamo più volte chiesto al ministero anche il coinvolgimento nel progetto del tratto di Fano domani se ne parlerà all'incontro in regione al quale parteciperemo ha concluso Ricci che ha aggiunto è un altro passo avanti verso un sogno ora sempre più realizzabile rimaniamo a Pesaro perché anche quest'anno le attività economiche potranno richiedere l'aumento di occupazione del suolo pubblico posticipare al 31 luglio il pagamento del canone e vedersi conteggiata la parte aggiuntiva solo per il 30% lo hanno annunciato in questo caso gli assessori Andrea Nobile e Francesca Frenquellucci nonostante dal prossimo mese cesseranno le restrizioni anti-covid hanno spiegato gli assessori abbiamo deciso di mantenere gli ampliamenti concessi durante il periodo dell'emergenza e di prevedere uno sconto del 70% sul canone da versare per gli spazi aggiuntivi ed ora ci spostiamo a Mondolfo dove sabato scorso è stato inaugurato il Bastione Sant'Anna dopo importanti lavori di restauro i locali del Bastione Sant'Anna sono finalmente tornati fruibili dalla comunità il taglio del nastro è avvenuto sabato 26 marzo dopo complessi lavori di restauro e di miglioramento sismico l'intervento è stato finanziato dalla Regione Marche con il contributo della Fondazione Carifano e dei fondi del bilancio comunale in occasione delle giornate FAI di primavera grazie alla guida appassionata degli apprendisti Ciceroni dell'Istituto Comprensivo Fermi sono state illustrate alle autorità e al pubblico presente anche le sale dedicate al progetto interregionale Terre Martiniane inoltre nella sala della cisterna è stato proiettato in anteprima un suggestivo videomapping con la voce dell'attore Luca Violini e le musiche originali di Roberto Lucanero che ha suonato dal vivo una fedele riproduzione di un organo portativo del XV secolo un grande momento di festa per la città e per il sindaco Nicola Barbieri dopo lunghi decenni in cui è rimasto inaccessibile finalmente ritorna nella disponibilità della cittadinanza e dei tanti turisti che verranno a visitare in futuro il nostro comune sono stati lavori che hanno dovuto affrontare un percorso ad ostacoli perché sono iniziati durante la pandemia, nel pieno della pandemia però grazie ai progettisti, all'ufficio tecnico comunale, all'ufficio cultura che hanno corso tanto negli ultimi mesi siamo riusciti ad arrivare fino a questo punto e fare in modo che il bastione fosse uno dei luoghi protagonisti delle giornate FAI quindi davvero una bella soddisfazione Presenti all'evento anche il prefetto Tommaso Ricciardi e il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli È bello perché dà anche credito e forza a quella politica dei borghi che noi cerchiamo di perseguire politica che è volta appunto a creare un circuito turistico, enogastronomico, culturale che possa attrarre e destagionalizzare l'offerta turistica Recuperare il bastione, ha dichiarato invece il consigliere con delega alla cultura, Eve Mattioli significa ridare vita a un pezzo di storia del nostro territorio e anche far rivivere in qualche modo le persone che nei decenni e nei secoli precedenti hanno attraversato questo luogo ed è qualcosa sempre di molto emozionante in più oggi grazie al bastione Sant'Anna abbiamo anche un luogo di riferimento per il progetto Terre Martiniane di cui Mondolfo è capofila e coinvolge altre quattro regioni in Italia ed è un progetto che mira a valorizzare e a celebrare il genio di Francesco Di Giorgio Martini questo ingegnarius del rinascimento che aveva la capacità nella sua ecletticità di adattarsi ai luoghi in cui veniva a dialogare con i luoghi in cui veniva chiamato per portare i suoi servizi nel rinascimento con i termini ingegnarius si intendeva una persona che aveva la possibilità la capacità o meglio di essere un abile tecnico ma anche un umanista ma al bisogno sapeva anche come dire vestire vestirsi per diventare un creativo un inventore, anche un trattatista quindi è veramente per noi un onore essere punto di riferimento e capofila per questo progetto Dal 5 aprile sarà attivo l'ambulatorio delle cure palliative al distretto di Pesaro in via 11 febbraio l'attività verrà garantita tutti i martedì dalle 10.30 alle 12.30 dall'equip multidisciplinare dell'ospice di Fossombrone diretta dal dottor Brunori la prenotazione con l'impegnativa del medico di medicina generale dovrà essere effettuata tramite il CUP agli sportelli o telefonicamente Efano continua a celebrare i 150 anni dalla nascita di Ruggero Ruggeri e lo fa con un concorso dedicato ai giovani attori con meno di 30 anni Un concorso per attori e attrici con monologhi pirandelliani proposti ad una giuria di esperti e al pubblico è l'ultima iniziativa presentata ieri nella sala della Concordia del municipio di Fano che rientra nel programma di eventi iniziato lo scorso anno per celebrare i 150 anni dalla nascita di Ruggero Ruggeri attore ideale di Luigi Pirandello La città natale continua così a celebrarlo con un programma europeo promosso dalla Rocca Malatessiana Fondazione Garifano, Bicicifano, Comune Fondazione Teatro della Fortuna e Accademia di Belle Arti di Macerata Abbiamo pensato di lasciare la possibilità a tutti di partecipare senza la concezione del professionismo Il professionismo è qualcosa che si matura quindi diamo la possibilità di essere intanto protagonisti quindi chiunque può partecipare avendo meno di 30 anni da tutte le parti d'Italia abbiamo sentito anche i giovani dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma della Scuola Palo Grassi di Milano ma sicuramente sto avvertendo con le iscrizioni che avvengono che ci saranno molti partecipanti dal territorio perché in effetti piace l'idea che si possa in qualche modo creare un'interpretazione pirandelliana libera I candidati si dovranno cimentare in brevi monologhi e la prima selezione avverrà sulla base di un video autoprodotto anche con un cellulare che ogni partecipante dovrà inviare entro il 30 aprile agli indirizzi mail di Fanno Rocca, del direttore artistico Pugliani e della segreteria organizzativa Chi passerà alla prima fase potrà partecipare a un breve corso in programma giovedì 26 maggio il giorno successivo poi è prevista l'esibizione pubblica del monologo mentre sabato 28 e domenica 29 maggio i vincitori effettueranno con prestazione retribuita alcune performance teatrali e audio 6 in totale l'importo complessivo messo a disposizione dall'organizzazione di 1500 euro Nel momento in cui la commissione giudicatrice riterrà valida questa interpretazione avranno un contratto di lavoro per rappresentare insieme ai lavori delle produzioni delle scuole del liceo Nolfi e Apolloni potranno benissimo trovare questa convivenza immaginaria dove appunto ci sarà la possibilità di rievocare la voce straordinaria di Ruggeri Ruggeri soprattutto nell'Enrico IV e quindi la follia la malattia l'identità di Pirandello entreranno proprio nelle interpretazioni contemporane che piacciono ai giovani che sentono i giovani La commissione giudicatrice sarà composta da attori e docenti Carlo Simoni Arianna Ninchi Matteo Giardini Pierfrancesco Giannangeli Massimo Puliani il presidente Giorgio Gragnola e Monica Pucillo che si occuperà della segreteria sarà attivata anche una votazione da parte del pubblico che verrà acquisita ai fini degli attestati e riconoscimenti L'opportunità che si dà dei giovani di cimentarsi in queste performance teatrali che vedranno appunto poi anche un vincitore che si esibirà nel luogo di Ruggero Ruggeri perché Palazzo Bracci Pagani è l'edificio dove ha avuto in Natale Ruggero Ruggeri quindi questa è un'iniziativa che ci dà particolarmente soddisfazione proprio perché mette insieme sia le celebrazioni di questo nostro concittadino insieme a un'opportunità per giovani attori Anche questa sera ringraziamo i sostenitori di Fano TV Caterina Delbianco Lorenzo Pierucci Giampiero Falcioni Luana Fattorini e Antonio Arceci Grazie a tutti tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato all'inaugurazione del Bastione Sant'Anna condotto da Maria Elena Delbianco dunque rimanete sintonizzati sul canale 19 del digitale terrestre e buona serata su Fano TV